Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del Tg6. Torniamo a parlare della crisi idrica in apertura per quanto riguarda la provincia di Teramo. La procura della Repubblica Teramana ha aperto un'inchiesta sul caso dell'acqua contaminata del Ruzzo. Si cerca di capire se ci sia stato davvero l'inquinamento momentaneo oppure nel punto di captazione del traforo del Gran Sasso si sia trattato solo di un allarme eccessivo da parte della ASL di Teramo. Sentiamo a proposito il servizio di Tania Bonnici Castelli. Rientrato l'allarme sulla potabilità dell'acqua del Gran Sasso in provincia di Teramo. Da questo momento però si indaga a tutto campo su cosa possa essere accaduto l'8 maggio, giorno nel quale l'ASL Teramana ha riscontrato caratteristiche non conformi dell'acqua captata nei pressi del traforo e deciso di informare la popolazione. Analisi che sono poi tornate normali nella stessa notte. Ad occuparsi della vicenda è ora la procura della Repubblica di Teramo. Il procuratore Antonio Guerriero ha deciso di affidare l'inchiesta ad un pool di tre magistrati esperti in reati ambientali Stefano Giovagnoni, Greta Loisi e Davide Rosati. Saranno loro ad accertare se ci sia stato un reale inquinamento o se si sia trattato di un procurato allarme. I giudici hanno già ascoltato la responsabile dell'ufficio Sian dell'ASL di Teramo, Maddalena Marconi, che ha firmato il documento che accertava la non potabilità dell'acqua, e il presidente della Luzo Reti, Antonio Forlini. L'inchiesta avrebbe comunque già accertato che tutto è stato fatto rispettando le regole previste dalla legge, che impone all'ASL di avvertire popolazione e gestore della rete idrica in caso di dubbio sulla bontà dell'acqua. In questo caso forse si è trattato di un eccesso di zelo, visto che nell'Aquilano, con le stesse analisi, non è avvenuto nulla di quello che Teramo ha invece vissuto per 12 ore. La magistratura però vuole vederci chiaro e continua ad indagare per capire che cosa abbia reso l'acqua dell'8 maggio di colore e di odore diverso, anche se non pericolosa. Intanto quelle provette per il momento non si trovano. E il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, convocherà un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza e alle associazioni sulla questione della crisi idrica. Anche alla luce si legge in una nota di quanto appreso dal recentissimo comunicato del Forum Abruzzese dell'Acqua che nel riportare alcuni documenti dell'Arta ha evidenziato come già il 4 e il 5 di maggio vi fosse nell'acqua presenza di toluene, etilbenzene e xilene. Bisogna assolutamente, in sede istituzionale e con la presenza dei vertici di Ruzzo, Asle e Arta, dice il sindaco, dare conto di quanto accaduto. Sono state troppe le notizie contraddittorie e poca la chiarezza, secondo Mastromauro, che infine conclude, solo gli esperti possono darci le risposte che è nostro diritto avere. Cambiamo argomento adesso. Il vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico Giovanni Lolli questa mattina ha tenuto una conferenza stampa per illustrare il tema dei contributi alle imprese che investono nelle aree di crisi semplici e individuate dalla Regione. Si tratta di novità contenute nel nuovo bando PORFESR 2014-2020 in procinto di essere pubblicato dall'ente Regione. 16 sono i milioni di euro a disposizione degli imprenditori. Sentiamo Paolo Renzetti. Presidente Lolli, 16 milioni di euro per le aree di crisi, una boccata d'ossigeno per queste zone della nostra Regione. Siamo la Regione che è riuscita a ottenere il più alto numero, diciamo. Circa metà, abbiamo 600 mila abitanti, metà del territorio regionale classificato come aree di crisi. Noi abbiamo accompagnato a questa legge, un milione e mezzo non è la portata di tutte le aziende naturalmente, un nostro intervento con 16 milioni di euro per fare sulle stesse aree premiare le attività cosiddette in de minimis, cioè con investimenti da minimo 50 mila euro fino a un massimo, come dice l'Europa, di 200 mila euro. La cosa è particolarmente significativa perché noi abbiamo dovuto inserire nella parte rendicontabile, quindi finanziabile, anche interventi che le aziende fanno sul proprio plan, sul proprio stabilimento, per quanto riguarda il miglioramento sismico. Abbiamo già messo in campo più di 40 milioni di euro, siamo perfettamente in linea con quanto stabilito dal programma e con quanto negoziato con l'Europa. Credo sia una buona notizia, io debbo dire che sulla vecchia programmazione il numero di imprese che ha partecipato è stato superiore alla dotazione, quindi noi ci aspettiamo che anche in questo caso ci sia una grande risposta che assorbirà interamente le risorse e qualora le assorbisse tutte le risorse potremo eventualmente ragionare su collocare altre risorse ancora. Andiamo all'Aquila adesso per la politica e per gli approfondimenti sulla situazione pre-voto per il rinnovo del Consiglio Comunale. In vista della presentazione delle liste si candida anche il gruppo dei democratici e socialisti, il servizio di Germana Dorazio. Lanciano l'idea dell'assessorato alle frazioni, i democratici e socialisti per l'Aquila e frazioni, con il candidato sindaco Americo Di Benedetto. E' così che è stata presentata anche questa lista che afferirà al centro-sinistra una squadra compatta e coesa che punta al miglioramento del benessere e della vita della città, è stato detto durante la presentazione. Una lista formata da alcuni politici anche della scorsa amministrazione, tra i quali Giuliano Di Nicola e Pierluigi Mancini, che è sostenuta da altri nomi noti della politica, tra i quali Giancarlo Vicini e l'assessore ancora in carica Giovanni Cocciante. Unire l'esperienza dei democristiani che abbiamo nella nostra lista e di socialisti che sono nella nostra lista significa richiamarsi ad uno spirito riformatore che dovrà improntare la prossima azione amministrativa nel Comune dell'Aquila. E' stata fatta appunto per spostare un po' l'asse di sinistra verso la parte moderata che era rimasta oscurata. Ho ritrovato una casa che con la democrazia cristiana che non c'è più avevo perduto. E a Pescara oggi Consiglio Comunale con all'ordine del giorno i nuovi lavori per l'ampliamento del Museo del Mare, contraria l'opposizione che chiede di destinare i fondi ad altri progetti. Sentiamo. Appoggiato il progetto preliminare per l'ampliamento del Museo del Mare, l'opposizione però contraria. Oggi approviamo il progetto preliminare del Museo del Mare Guglielmo Pepe perché ci serve sia per andare in variante al piano regolatore in quanto occupiamo una zona F1, sia per diciamo preordinare il vincolo dell'esproprio. Un esproprio che è già cominciato nei confronti della Croce Rossa nazionale su un terreno che era funzionalmente dedicato a trovare la sede della Croce Rossa. Sono 4 milioni e mezzo secondo noi che potevano essere destinati a risolvere i veri problemi della città, in particolare ho ricordato il miglioramento della viabilità di accesso al Ponte Nuovo che ci piacerà molto definire d'ora in poi Ponte Flaiano, ad esempio. E' così come abbiamo evidenziato che forse non c'è neppure la copertura finanziaria perché con il Master Plan si stanno finanziando sulla carta decine di opere. Noi vogliamo vedere i timbri, le firme del Servizio Bilancio della Regione perché fino ad oggi ci risulta che molte attività da parte della giunta regionale non abbiano copertura finanziaria. Una struttura che si propone di essere un museo inedito, quindi differenziare rispetto agli altri musei della città e gli altri musei d'Italia. Significa quindi garantire la possibilità di arrivare a Pescara, un nuovo turismo, tenendo conto che il Museo del Mare è il museo più visitato della città. Questo è un tratto che mi sento di sottolineare e tenendo anche conto che la nostra è una città molto legata con il mare. Voglio garantire e dire questo alla città, ci stiamo impegnando moltissimo per fare in modo che i fondi della città di Pescara, del nostro bilancio, siano dedicate a opere prioritarie. Soddisfazione a Roseto degli Abruzzi per il riconoscimento della bandiera blu che torna in città dopo un anno di assenza. Noi andiamo ad ascoltare il sindaco di Roseto, Di Girolamo. 17 anni, Roseto aveva avuto la sua bandiera blu, purtroppo l'anno scorso la FEA aveva ritenuto di non darla. Noi abbiamo lavorato da mesi per averla di nuovo e sono contento di questo risultato. Ringrazio la mia struttura amministrativa che l'ha curata con molto impegno. Ringrazio i balneatori, ringrazio tutti gli operatori turistici perché anche grazie a loro la città ha meritato questo riconoscimento, al loro lavoro, alla loro spiaggia, alle loro strutture. Ringrazio i miei cittadini perché se Roseto è una città ecologicamente corretta lo è perché tutti i cittadini sono ecologicamente sensibili. Quindi un risultato bello per la città di cui dobbiamo essere fieri anche perché non l'hanno avuta città che hanno un uguale curriculum dal punto di vista turistico anche nella nostra provincia. Mi rallegro anche perché c'è una catena di bandiere blu che va da Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi, un'ulteriore valorizzazione della costa blu, un ulteriore riconoscimento per la costa terramana che accoglie il 65% del turismo balneare di Regione Abruzzo. Come si prepara la città alla nuova stagione turistica? Cerchiamo di assicurare vivacità alla città sia come comune sia in sinergia con gli operatori turistici. Abbiamo un tavolo che sta coordinando le iniziative e anche quest'anno a Roseto non mancheranno le occasioni di vivace intrattenimento. Naturalmente il clou sarà sempre costituito da Roseto Opera Prima, il festival cinematografico ideato e organizzato per tanti anni dal caro Tonino Valeri e poi ci sarà la mostra di vini tipici che è una delle mostre più antiche d'Italia e quindi anche quest'anno avrà un grande spazio nel nostro cartellone. Torniamo all'Aquila, il Movimento Possibile lancia una raccolta di firme per l'allargamento delle zone interessate dal bando Fare Centro. Il rischio è che ci sia un depreciamento delle zone escluse da questo bando. Sentiamo il servizio di Filippo Tronca. Estendere il perimetro dell'area dove è possibile accedere ai 12 milioni di euro del bando Fare Centro, tropezzato per favorire con incentivi e agevolazioni il reinsediamento di attività commerciali e artigianali nel centro storico dell'Aquila in ricostruzione ma ancora semi spopolato. A chiederlo con forza Paolo Dell'Aventura e Pier Giorgio Locata di Possibile che hanno avviato anche una raccolta firme. Questa perimetrazione e Nico hanno argomentato Locata e Dell'Aventura. È infatti incredibile che siano state escluse aree piene di attività economiche come in primis via Strinella o anche parte di via della Croce Rossa e altre strade al ridosso delle mura urbiche del centro. Il rischio ora è che queste aree subiranno un crollo del valore degli immobili e negozi e studi professionali chiuderanno per riaprire dentro le mura a poche centinaia di metri per godere delle agevolazioni. La raccolta firme itinerante proseguirà fino al 25 giugno, giorno di scadenza del bando Farecentro. Una raccolta firme aperta a tutti i cittadini della città perché si possa allargare il bando a delle zone escluse in maniera secondo noi abbastanza superficiale anche perché nel bando sono poi comprese zone che non hanno nessuna attinenza con il centro e nel Farecentro. Io parlo di San Pietro della Ienca e di Fonte Cerreto oltre a diversi comuni che sono fuori dal cratere aquilano e quindi sono nel Terramano e nel Pescarese. Allora questo è il nostro messaggio, se si pianifica uno sviluppo della città la città deve essere considerata nel suo complessivo senza lasciare dei buchi in mezzo. Le vie di cui si chiede l'inserimento sono Via Gualtieri d'Ocre, Caldora, Strinella, Chiarizia, Teramo, Atri, Montereale, Pescara e ancora Viale Tagliacozzo, la parte inferiore centrale di Viale Gran Sasso e quella superiore di Via della Croce Rossa. Un'altra notizia di economia comincia con il piede giusto. La nuova esperienza del manager sul monese Maximo Ibarra, la guida di Wind Trail, colosso nato dalla recente fusione tra due operatori della telefonia mobile. I risultati del primo trimestre 2017 parlano di un incremento dei ricavi totali del 2,1% dovuto all'aumento del numero dei clienti sia nel segmento del fisso che in quello dell'internet mobile. Siamo molto soddisfatti per i risultati di questo primo trimestre, ha commentato l'amministratore delegato di Wind Trail. Il processo di integrazione tra le due realtà sta proseguendo in maniera veloce ed abbiamo già realizzato importanti sinergie nella costruzione della nuova azienda. Grazie alla strategia commerciale sui nostri due brand, ha concluso Ibarra, possiamo competere con grande efficacia con l'obiettivo di garantire ai clienti la maggiore customer experience del mercato. Ora ci spostiamo a Montesilvano Colle e cambiamo argomento per occuparci di raccolta differenziata. Dati entusiasmanti per la sperimentazione del porta a porta, raccolta all'87% con il comune che si appresta a breve ad estendere il servizio in altre zone della città. Sentiamo. L'87% di raccolta differenziata nei primi 50 giorni di sperimentazione a Montesilvano Colle sono un risultato che nessuno alla vigilia poteva immaginare, anche perché attualmente la media della raccolta differenziata in città non va oltre il 22%. Per il momento sono state circa 300 le utenze, famiglie e attività commerciali coinvolte nel servizio di porta a porta per la raccolta dei rifiuti su un territorio di 2 km quadrati. Raccolta che si serve anche di tecnologia all'avanguardia, come il chip incorporato nei mastelli che consente di individuare eventuali furbetti della differenziata. Dal 6 marzo ad oggi sono state raccolte tre tonnellate di rifiuti in prevalenza residuo organico. La società Formula Ambiente, gestore dalla fine della scorsa estate per conto del comune della raccolta dei rifiuti, si dice soddisfatta e pronta ad estendere il servizio. La qualità del rifiuto è notevolmente aumentata grazie al fatto che i contenitori sono più piccoli e quindi gli operatori possono verificare se all'interno dei mastelli ci sono i rifiuti che devono essere raccolti quel giorno. Il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ha sottolineato il convolgimento della cittadinanza che, con il porta a porta, viene sensibilizzata e responsabilizzata ad una corretta gestione del rifiuto domestico e commerciale. La raccolta, che da luglio interesserà altre zone di Montesilvano, consentirà un risparmio di circa un milione di euro per le casse comunali sui nove totali previsti dal contratto come costo della raccolta dei rifiuti. Il cittadino ha voglia di confrontarsi, ha voglia di rimboccarsi le maniche per rispettare l'ambiente, ma anche per avere dei vantaggi indiretti, come quello di non vedere più i cassonetti per strada o anche quello più importante, di avere dei risparmi in bolletta davvero consistenti. Torniamo a Pescara, dove a Palazzo di Città c'è stata la presentazione dell'iniziativa curata dall'attore Giorgio Pasotti e denominata Cultura e Legalità, dai grandi figli d'Abruzzo ai valori della legalità, con un incontro spettacolo programmato per domani all'auditorium Flaiano alle 10.30. Siamo arrivati al compimento di un ciclo, di un cerchio che si chiude proprio domani mattina affrontando il tema della giustizia, della criminalità, della violenza in generale attraverso le parole dei grandi classici e questo secondo me è un buon viatico per far arrivare in profondità e soprattutto a quel pubblico di ragazzi che hanno bisogno di sentire, di imparare dei grandi classici valori molto importanti. Dalla prima volta che sono entrato in contatto con questa città ne ho scoperto non solo i valori del territorio, cosa che io purtroppo non conoscevo pur abitando qui vicino a Roma, ma ho scoperto soprattutto quello che sono i valori artistici, che quelli ero un po' più a conoscenza ma non nel dettaglio. Quindi i grandi autori da Flaiano ad Annunzio sono stati per me una guida non solo per arrivare a questo spettacolo, questa sorta di spettacolo che faremo domani mattina, ma anche a uno spettacolo che io sto portando in giro ormai da quasi un anno per la regia di Davide Cavuti e la produzione di Stefano Francioni, che sono ovviamente persone abruzzesi doc, il rischio di essere banale, però è ovvio che D'Annunzio è una materia scolastica che tutti noi abbiamo studiato, io pure, ma poi quando lo vai a studiare nel dettaglio, quello che ho fatto poi durante questo periodo, ne scopri non solo i valori artistici ma i valori umani e quel senso di visione futuristica della sua vita, cioè lui è stato un uomo che stava avanti 150 anni rispetto a qualsiasi altra persona che ha vissuto nella sua epoca. A Teramo proseguono gli appuntamenti del Maggio Fest, in sala i registi abruzzesi, vediamo. Terza serata della 26esima edizione del Maggio Fest a Teramo, dedicata al cinema, è stata la volta di cinque filmmaker abruzzesi che hanno portato i loro lavori più rappresentativi sul grande schermo del cinema smeraldo. Ascoltiamo Vincenzo Core in rappresentanza del gruppo. Per noi è molto bello tornare qui al Maggio Fest per la seconda volta, è un'iniziativa che ha già una sua storia, fa sia da piattaforma di incontro per le realtà locali e di incontro non solo tra noi, ma anche rispetto alle realtà nazionali e internazionali. Questa sera presenteremo due nostri lavori audiovisivi. Io e Fabio Scacchioli lavoriamo sul rapporto tra suono e immagine. Io sono un compositore e Fabio si occupa della parte dell'immagine, ma lavoriamo in stretto contatto proprio per rendere non le due parti separate o rafforzanti una dell'altra, ma in stretta connessione fino a diventare indispensabili l'una all'altra appunto. E' sempre a terra, Montaglio del Nastro, oggi per la 29esima edizione della Fiera dell'Agricoltura che si chiuderà domenica accogliendo migliaia di visitatori come è accaduto nelle passate edizioni per offrire loro le ultime novità nel campo agricolo. L'assessore Dino Pepe, presente all'inaugurazione, ha annunciato l'arrivo dei risarcimento previsti per le aziende locali messe in ginocchio dal sisma e dal maltempo. Un weekend lungo da trascorrere a Teramo visitando la 29esima Fiera dell'Agricoltura che fina domenica terra a banco nell'area adiacente lo stadio Bonolis di Piano Daccio. 200 espositori con le ultime novità del settore agricolo, la fattoria degli animali e serate tra food e musica. La crisi politica al Comune di Teramo non blocca la Fiera dell'Agricoltura? Assolutamente no perché sono due cose che camminano su strade parallele che non si incontreranno mai. Che cosa vi aspettate da questa nuova edizione? Ci aspettiamo il successo degli altri anni e che si notino le novità che noi abbiamo cercato di portare all'interno di questa edizione. Quali sono queste novità? Le novità principali sono tantissimi convegni a tema che verranno fatti all'interno della Fiera. Abbiamo oltre 200 espositori, abbiamo individuato delle aree parcheggio in più per circa 800 posti auto. La sera il food quest'anno viene spostato all'esterno dell'area Fiera ma è adiacente e quindi la Fiera chiuderà intorno alle 21 e successivamente si può andare in quest'area dove saranno spettacoli fino a domenica e quindi sperando che la gente magari rimanga dopo, anche a divertirsi. Una boccata d'ossigeno all'agricoltura teramana dovrebbe presto arrivare da governo e regione Abruzzo che hanno approntato piani di risarcimento per le aziende locali messe in ginocchio da sisma e maltempo. Ma l'Abruzzo si rilancerà attraverso l'agricoltura? Penso proprio di sì e soprattutto quella teramana dopo le vicende tristi di gennaio, dopo il terremoto, la neve, la mancanza di energia elettrica, l'agricoltura eroica della montagna teramana ha sofferto tantissimo. Proprio in questi giorni stanno arrivando i contributi agli allevatori zootecnici che hanno tanto sofferto in quelle settimane e dopo l'intervento del Ministero e della Regione sono in arrivo i contributi di 400 euro a bovino, 60 euro a dovino e 20 euro a suino. Sono contributi importanti per cercare di rilanciare l'economia zootecnica di montagna e questa fiera quest'anno assume un valore particolare di ripartenza dell'economia e dell'agricoltura in maniera particolare. E intanto le eccellenze teramane sono sempre più apprezzate, in particolare nel settore ovino. Queste vostre pecore sono un po' speciali, perché? Sono speciali che sono ad alta produzione di latte e anche carne. Quanto latte produce una pecora? Una pecora di queste produce di media sei quintali con una lattazione. Ed ora siamo allo sport con il calcio di Serie A in primo piano. domenica pomeriggio al Dallara di Bologna il Pescara scende in campo in una gara che per i biancazzurri avrà poco da dire per la classifica. Squalificato ben alì potrebbe esserci spazio per Muric. Chi scalpita in panchina è Alberto Gilardino. A rientro da un lungo stop dovuto a un infortunio. Allora vediamo insieme il servizio di Jacopo Forcella. La terz'ultima tappa di un calvario che non sembra avere fine è la trasferta di Bologna nella quale il Pescara proverà ancora una volta a centrare un risultato positivo in grado di lenire, in maniera seppur lieve, l'amarezza di un torneo gettato alle ortiche. Quella con il rosso-blu di Roberto Donadoni potrebbe essere l'occasione per rivedere all'opera Alberto Gilardino. Magari non dall'inizio, ma è chiaro che la stangata del giudice sportivo che si è abbattuta su Benalì libera un posto nel reparto avanzato che almeno nelle previsioni dovrebbe essere a pannaggio del croato Muric. che domenica contro il Crotone ha giocato il suo secondo spezzone di gara in campionato. Ma è altrettanto evidente che l'ex empolese vorrebbe chiudere con qualche minuto di partita nelle gambe una stagione che gli ha riservato, esattamente come il Pescara, pochissime soddisfazioni. Panchine ad Empoli prima del trasferimento in Abruzzo, voluto dall'ex tecnico Massimo Oddo, prima dell'infortunio ed è l'operazione che lo ha tenuto lontano, lontanissimo dai campi di gioco. Anche Zeman domenica dopo la sconfitta interna col Crotone aveva ammesso che malgrado il lavoro Gilardino non è ancora pronto al 100%, ma il tempo stringe e lui un piccolo spazio in questo finale vorrà ritagliarselo. Nel frattempo, a proposito di reparto avanzato, ieri Gianluca Caprari ha lasciato anzitempo l'allenamento a causa di un fastidio provocato da un colpo rimediato proprio durante la seduta. Ancora lavoro differenziato per Campagnaro e Stendardo, con la difesa che dovrebbe essere quella vista contro il Crotone, con Biraghi e Zampano sulle fasce, Bovo e Fornasiera al centro. L'ultimo precedente in Serie A tra le due squadre al Dallara portò un punto in dote alla formazione Biacazzurra. Era il settembre del 2012 e Juan Fernando Quintero rispose proprio al gol di un Gilardino, che allora giocava con la maglia rosso-blu. E sarà l'abruzzese Antonio Di Martino ad arbitrare la sfida tra Bologna e Pescara per il fischietto della sezione di Teramo, ma originario di Giulianova si tratta della prima volta nella massima serie come arbitro, dopo essere stato addizionale ed aver diretto in questa stagione 15 gare nel campionato cadetto. In Lega Pro settimana anomala per il Teramo, che prepara la doppia sfida contro il Lumezzane per la permanenza nella terza serie. Intanto il centrocampista Mirko Spighi parla del suo momento di forma e di quella che a suo parere è stata la partita chiave che non ha permesso al diavolo di centrare l'obiettivo della salvezza diretta. Ascoltiamolo. C'è rammarico perché comunque sia, dopo Ancona diciamo avevamo appunto fatto secondo me qualcosa di buono, avevamo fatto quattro risultati consecutivi positivi, quindi penso che un po' di rammarico ci sia da parte di tutti perché potevamo veramente essere in vacanza a questo punto, però purtroppo sono cose che nel calcio succedono, quindi adesso a testa alta affronteremo i play-out al meglio con consapevolezza di essere una buona squadra, ma appunto sicuramente abbiamo avuto dei limiti perché siamo qui in tutti, quindi qualcosa sicuramente non è andato. Diciamo la partita chiave è stata quella con la Reggiana, perché è vero che è una squadra forte, è una corazzata perché se andiamo a leggere i nomi è una squadra molto costruita bene, però giocando in casa, tutto quanto, anche diciamo sotto tono, magari era un momento di difficoltà anche a livello fisico, sicuramente il pareggio ci poteva andare bene, tu comunque sia andavi poi dopo contro il Forlì con cinque risultati positivi e con un punto in più sulle spalle e sicuramente il campionato secondo me sarebbe finito in un modo diverso. Purtroppo non riesco mai a riprendere al 100% perché ho avuto ricaduti su ricaduti, di conseguenza a volte anche ho paura nel gestire delle situazioni, perché comunque sia non sai mai cosa va in conto, sicuramente non è mai capitato, quindi sono sempre un po' frenato, però in questo momento non mi sento al massimo delle mie potenzialità, nel senso che sono sicuro che posso dare di più, però sono vicino e sto lavorando, voglio lavorare sempre al 100% anche durante l'allenamento per poi poter dare il mio contributo alla squadra alla domenica. Secondo me il play out è un interno all'otto, nel senso che qualsiasi squadra incontri è dura ed è difficile, però credo che noi dobbiamo guardare un po' noi stessi, nel senso che dobbiamo veramente in queste tre settimane che sono allenarci come abbiamo sempre fatto e poi dopo quando sarà il momento di affrontare Lumezzane che secondo me poi come noi si trova in questa situazione, vuol dire che hanno dei problemi e quindi dovremmo cercare il modo migliore per fargli male, però non c'è secondo me la squadra più debole in quelle circostanze. È tutto per la seconda edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.